Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Oggi in primo piano la politica, la vigilia del congresso cittadino del PDL che si terrà domani e domenica. Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha presentato la mozione con cui si candida al coordinamento cittadino del partito. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Ce ne parla Alessandra Bucci. Non chiamate le fratture interne ma pluralismo e dialettica. Non chiamate le mozioni fitto o quagliariello ma rispettate la personalità di chi scende in campo per rinnovare il PDL perché non siamo gregari di nessuno. Il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri in polemica con i gossip veri o presunti che ruotano attorno alle diverse anime che coesistono nel popolo delle libertà sgombra il campo dei sospetti di chi vede nel congresso cittadino il palcoscenico di ambizioni esclusivamente personali. Lo ha fatto oggi durante la presentazione della sua mozione con cui si candida nel congresso di sabato e domenica al coordinamento cittadino del PDL. L'individuazione di un percorso programmatico che costruisca ponti verso la gente utilizzando anche le diversità che potranno esserci come elemento di stimolo e di spinta per costruire progetti migliori. Per il senatore D'Ambrosio Lettieri questo appuntamento coincide con la fine del liderismo, una sfida per restituire alla politica la sua funzione di radicamento sul territorio e collegamento con la gente. Un restalling del partito che vede nelle primarie lo strumento di scelta dei candidati, ma ripartire dalla base significa anche restituire la penna ai cittadini per indicare le preferenze di chi va in Parlamento. Un passaggio epocale, non più le nomine dall'alto ma la scelta di una classe dirigente che viene dal basso coinvolgendo la passione della militanza. Il prossimo lunedì approderà in giunta comunale il piano di lottizzazione del tondo di Carbonara per cui ieri il Consiglio ha dato via libera alla variante. Vediamo. Quasi un milione di metri cubi per un insediamento nella zona di oltre 15.000 abitanti. Stiamo parlando del nuovo quartiere che sorgerà sul tondo di Carbonara nelle vicinanze dello stadio San Nicola, per cui ieri in Consiglio Comunale si è dato lo che è alla variante che ne ha ridefinito la perimetrazione con 27 voti favorevoli, tra cui anche quello della consigliera Maria Maugeri che aveva cominciato tempo fa la raccolta firme per portare in aula a Dalfino il piano di lottizzazione, vista l'importanza del provvedimento e l'impatto urbanistico sulla città, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale che stabilisce la competenza dell'Aggiunta sull'approvazione dei piani urbanistici conformi al PRG. Non essendo riuscita nella raccolta delle 24 firme necessarie, la delegata all'ambiente auspicava perlomeno ad una discussione allargata, qualcosa che desse l'imprimatur consigliare la decisione dell'Aggiunta prevista per il prossimo lunedì. E così infatti è stato, una seduta, quella di ieri, interamente dedicata alla questione. Non sono mancate le polemiche, anche nella stessa maggioranza, con il consigliere Paolini della lista Emiliano, che si è astenuto nonostante avesse precedentemente dichiarato la contrarietà del voto. Tra i sette astenuti poi anche i consiglieri di maggioranza, che pur non volendo bloccare la delibera in oggetto, hanno mosso diverse critiche nei confronti dell'amministrazione. Sentiamo. Secondo noi tutte le lottizzazioni che stanno per essere approvate o che sono state approvate in questa fase, a nostro modo di vedere, dovrebbero essere sospese, in quanto la delibera di approvazione di adeguamento del piano regolatore al PTT è stata approvata dalla Regione con prescrizioni, il che significa che questa è una delibera non ancora definitiva e pertanto vanno ridefiniti gli ambiti distinti relativi ai vincoli archeologici, paesaggistici e architettonici. E passiamo alla cronaca. Sono quattro le persone arrestate vicino al clan Strisciuglio di Bari dei carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale del Riesame su richiesta della DDA. Si tratta del 41enne Michele Ciani, del 29enne Giuseppe Milloni, già attenuto nel carcere di Bari, della 31enne Giuliana Mirizzi e del 38enne Pietro Floro, già sottoposto alla misura della semilibertà. Devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce in riforma dell'ordinanza emessa il 21 luglio del 2010 dal GIP del Tribunale di Bari, che consentì nel corso dell'operazione Libertà di arrestare 45 persone e di disarticolare così il clan, ritenuto il gruppo criminale dominante nel capoluogo. E voltiamo pagina, la Regione Puglia ha presentato un bando per il restyling dei musei regionali. Ce ne dice di più Alessandra Bucci. 25 milioni di euro di risorse FES per valorizzare i 213 musei della Puglia. La Regione ha presentato il bando pubblico rivolto a enti locali ed ecclesiastici del territorio pugliese. I finanziamenti serviranno al miglioramento dello standard qualitativo dei musei, allestimenti, servizi e abbattimento delle barriere architettoniche, previste anche delle premialità per chi è in grado di presentare un piano di gestione che dimostri la sostenibilità nel tempo del museo o per chi riesce a integrare diversi beni culturali in un rapporto virtuoso e sinergico con il territorio, come ci spiega l'assessore dell'assetto del territorio Angela Barbanente. La Puglia è un brand turistico. In questo periodo è importante rafforzare i legami tra sistema dei musei e territorio. Perché chi visita il territorio si è invogliato a visitare un museo e viceversa. perché il museo con i suoi servizi, con le sue attrezzature, con la sua dotazione infrastrutturale sia in grado di stimolare il visitatore a percorrere più a lungo e maggiore profondità e soprattutto nelle stagioni meno affollate il territorio. Giornata tutta barese per il noto cantautore bolognese Lucio Dalla. Noi lo abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto qualche domanda. Vediamo. Tornare in Puglia è come tornare nella mia seconda casa. Così il cantatore bolognese Lucio Dalla questa mattina a Palazzo di Città a Bari per una giornata fitta di appuntamenti. Alle 10 nella stanza del sindaco il cantante ha incontrato i bambini delle scuole Lombardi a Mediodaoste e Ungaretti per una puntata speciale della trasmissione radiofonica radiocreativa il progetto dell'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata. Non sono i cantanti a dover essere i miti dei ragazzi. Al contrario, i ragazzi sono i nostri miti perché siete gli uomini di domani. Pronto a rispondere alle domande, Lucio Dalla ha salutato così i ragazzi ringraziando il sindaco Emiliano per l'invito, vissuto come un ritorno all'infanzia nelle infinite vacanze estive trascorse in terra pugliese. Mi sento pugliese a tutti gli effetti, anche se sono di Bologna, la mia famiglia viene da là. Per lo passato la mia infanzia estiva in Puglia, ho la casa qua, ho lo studio di registrazione alle tremiti e considero vari culturalmente, geograficamente, come è la Puglia in generale, è uno dei posti più belli d'Italia e forse del mondo, perché essere un posto bello d'Italia vuol dire essere un posto bello del mondo. Ma cosa ama particolarmente di questa città e dei suoi cittadini? È difficile trovare qualcosa che non amo, perché amo tutto, quindi tutta la Puglia come il sud in genere. La Sicilia dove ho casa, la campagna dove tengo la mia barca, dove ho lo studio, dove ci lavoro, insomma per me il sud Italia è il futuro dell'Italia. Alle ore 11 nel foie del Teatro Petruzzelli la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Il bene mio, la vita e le canzoni di Matteo Salvatore, dedicata al noto cantore pugliese scomparso e che si terrà nel Teatro Petruzzelli il prossimo 10 febbraio. E un Petruzzelli, gremito e commosso, ha salutato ieri Ivano Fossati a Bari per il suo ultimo tour Decadensing. C'era per noi Silvia Dipinto. Sarà la musica che gira intorno, sarà che c'è un tempo perfetto per fare silenzio, sarà anche il gioco della vita ma quanto dolore. Sono i pezzi nuovi e le canzoni di sempre, quelle di mai più su un palco a cantare, che accompagnano Ivano Fossati nell'ultimo tour, congedo a un pubblico commosso che l'ha seguito per 40 anni. Con Decadensing, ballo su questo clima da tardo impero, racconta il cantautore genovese, mentre la gente li urla, non ci lasciare. In una meraviglia di teatro Fossati canta di migranti, viaggiatori d'Occidente, stelle benigne che corrono anche di notte, fratelli che guardano il nostro mondo. Fossati disegna l'amore, carte da decifrare e segni da indovinare. L'amore che fa l'acqua buona, fa bellissima la stanchezza, fa guerra all'idioti, agli arroganti, pericolosi. E poi l'impegno di sempre, in un tempo in cui le idee vanno a morire senza darci un saluto, L'appello divano è alla cara democrazia, torna a casa, che non è tardi. Sul palco niente angoscia, Fossati scherza con i musicisti, a destra i rocchettari che leggono Dylan Dogg, a sinistra i classici da saggio di Bauman. Al centro lui, il maestro, che a 60 anni fa calare il sipario per non diventare semplicemente la rappresentazione di se stesso all'infinito. E continuano al Meta Health Club di Bari gli appuntamenti dedicati al fitness. Fino a sabato, in esclusiva, le novità targate e le Smils. Lezioni gratuite per tutti e presentazione dei corsi in compagnia di istruttori certificati. Un'occasione per conoscere una particolare tipologia di fitness di gruppo, famosa e diffusa in tutto il mondo, per l'innovativo ed efficace metodo di allenamento supportato da musica e coreografie. Tra le novità, il corso Dance Shbam, che prevede una nuova coreografia ogni mese. E siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Previsti piovaschi alternati a schiarite, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord e nord-ovest con intensità di 12 km orari. Temperature compresse tra i 6 e gli 8 gradi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. Ed è tutto per il nostro telegiornale. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.